ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del puzzillo del sud chi vi parla è il vostro sempre più easier puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di ferralis terra oscura prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se davvero vi piace quello che sto facendo prendete in considerazione l'idea di abbonarvi al canale inoltre se siete interessati all'acquisto del gioco vi informo che attualmente è disponibile sullo shop della dear games studio e infatti se volete saperne di più vi lascio qui il link ferralis terra oscura è un gioco di carte competitivo da 1 a 4 giocatori della durata indicativa di 40 60 minuti a partita edito dalla dear games studio che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video e infine l'autore è luca vincitore ambientato nello scuro mondo di morc popolato da creature davvero molto brutali i giocatori dovranno impersonare uno degli esir ovvero delle figure molto potenti e temute l'obiettivo è sterminare con la violenza le tribù avversarie e per farlo dovremo avvalerci di tutto l'aiuto possibile ovvero non soltanto dei nostri servitori ma anche delle nostre abilità divine ovviamente l'esir che sopravviverà dominerà su queste terre oscure invece per quanto riguarda il genere abbiamo un gioco di carte cui le meccaniche principali sono la costruzione del proprio mazzo oppure il draft delle carte durante i turni bisognerà giocare le carte direttamente dalla propria mano ma queste finiranno in una sorta di incubatrice che scandirà il tempo fino a quando la carta non entrerà effettivamente nel campo di battaglia se mettere in campo la versione più veloce ovvero quella base che però quando muore ritorna nella sua versione più potente oppure andare con calma e poi caricare il nostro nemico i combattimenti sono molto diretti e anche brutali e infatti il primo giocatore che riesce a portare a zero punti vita l'esir avversario vince la partita come al solito non vi voglio anticipare troppe cose e vediamo il tutorial del gioco prepariamo una partita per due giocatori innanzitutto sappiate che il gioco prevede delle regole per costruire il proprio mazzo oppure in alternativa si può effettuare un draft per questo tutorial utilizzeremo dei mazzi precostruiti e sappiate che ognuno dei partecipanti deve scegliere una delle quattro fazioni e poi recupera tutte le carte presenti di quella fazione adesso di ogni tipo di carta rimuove una copia e questo farà sì che ognuno dei presenti avrà un mazzo di 20 carte il mazzo per adesso viene messo da parte e poi è il momento di scegliere una carta esir se più giocatori vogliono la stessa carta allora si decide casualmente il primo giocatore e colui sarà il primo a scegliere l'esir selezionato fornisce i segnalini catalizzatore che avremo durante la partita e poi è il momento di scegliere le abilità divine la carta esir specifica quale abilità divine possiamo ottenere e basta controllare i simboli su questo spazio che fanno riferimento alla tipologia di abilità divina ad esempio nelle nostre abilità possiamo includere questa carta poiché il simbolo è corrispondente e oltre ciò con tutte le abilità divine non possiamo superare il valore massimo sempre indicato sulla carta esir la divinazione oscura vale 2 quindi ci sono rimasti 11 punti rimanenti e con questa combinazione di abilità divine abbiamo raggiunto i 13 punti massimi esecuzione teoricamente non si può includere poiché il simbolo non corrisponde con quello concesso dall'esir però a solo scopo dimostrativo lo inserirò comunque nella partenza fatto ciò ognuno dei partecipanti scegli un colore prende la plancia del colore scelto e la posiziona di fronte a sé l'esir selezionato viene subito messo scoperto su questo spazio ad ogni giocatore viene dato un dado a 20 facce così da indicare i punti vita dell'esir e il dado deve essere subito posizionato su questo spazio con il valore 20 a faccia in su poi sempre vicino laser mettiamo i segnalini catalizzatore che ci ha fornito e poi mettiamo anche tre segnalini protettore e tre segnalini slot bloccato invece per quanto riguarda le carte abilità divine che abbiamo messo da parte le inseriamo negli appositi spazi in base al numero indicato e poi passiamo al mazzo personale questo viene mescolato coperto e viene messo sull'apposito spazio della nostra plancia e fatto ciò ognuno dei giocatori ottiene quattro supporti per le carte infine tra gli ultimi passaggi della preparazione creiamo la riserva generale e questa è composta dai vari segnalini statistica ed effetto insieme alle tre carte di riferimento poi se non l'avete già scelto prima è il momento di determinare il primo giocatore e se si gioca una partita si sceglie casualmente altrimenti il primo giocatore è colui che è stato sconfitto nella partita precedente determinato il primo giocatore ognuno dei presenti pesca quattro carte dal proprio mazzo e poi in ordine di turno vi è la possibilità di scartare fino a tre carte se questa accade vengono subito pescate tante carte così da tornare a quattro e poi le carte scartate vengono rimescolate con il mazzo fatto questo è tutto pronto per iniziare una partita feralis si divide in turni i turni vengono eseguite a partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario e il turno del giocatore attivo si divide in cinque fasi vediamo adesso tutte le fasi e sappiate che la prima per adesso la salto ma tranquilli che ve la spiegherò successivamente e passiamo subito alla seconda fase fase di caricamento in questa fase agisce soltanto il giocatore attivo e costui deve prendere un segnalino catalizzatore o un segnalino difensore e lo deve posizionare su uno di questi cinque spazi sappiate che soltanto i segnalini che sono stati messi in questi slot possono essere utilizzati durante la partita e quindi sono disponibili sul loro utilizzo ne parleremo meglio successivamente e passiamo adesso alla terza fase fase principale soltanto durante il primo turno il giocatore può giocare due carte dalla propria mano mentre nei turni successivi ne può giocare al massimo una la carta giocata può essere orientata nel verso che preferisce il giocatore e mi raccomando tenetela sempre nascosta ai vostri avversari poiché questa verrà messa sul supporto della carta dal lato che avete scelto in piedi con il fronte della carta rivolto verso di voi per questioni pratiche lascio le carte sdraiate così da mostrarvele e infine bisogna controllare il valore indicato su questo spazio poiché la carta giocata viene messa in piedi sullo spazio indicato mi raccomando il lato della carta che scegliete è molto importante poiché non solo determina la posizione di partenza nell'incubatrice ovvero la coda delle carte prima di entrare in gioco ma anche la tipologia della carta il simbolo dei tentacoli indica una carta risvegliata mentre l'altro simbolo indica una carta richiamata visto che abbiamo parlato di come si giocano le carte è il momento di spiegare i catalizzatori i catalizzatori possono essere utilizzati in questa fase da entrambi i giocatori sia quello attivo che quelli non attivi e ovviamente vi ricordo che i catalizzatori devono essere presenti in questi spazi se il giocatore lo desidera capovolge uno dei suoi catalizzatori disponibili e poi utilizza il valore per facilitare una carta verso destra e ad esempio se la utilizza sulla carta che appena ha giocato questa va a finire direttamente sullo spazio zero ovviamente i catalizzatori possono essere utilizzati anche per le abilità divine e questo serve a velocizzare la possibilità di sfruttare quella carta e invece per quanto riguarda le altre carte che arrivano sullo spazio zero possono essere giocate da entrambi i giocatori e quando succede il supporto viene tolto la carta rivelata e poi viene subito trasferita in uno qualsiasi di questi spazi mi raccomando lasciate sempre a faccia in su il lato che avevate scelto e finalmente la carta creatura è nel campo di battaglia quando una carta creatura viene rivelata è possibile assegnargli un token difensore e sappiate che per indicare che quello slot disponibile non lo è più si piazza al suo posto un segnalino bloccato il segnalino difensore viene subito messo sulla creatura scelta che appena stata rivelata e sulla funzione di questo segnalino ci torneremo a breve inoltre quando una carta viene rivelata fate attenzione poiché questa potrebbe attivare subito degli effetti che sono indicati su questo spazio o potrebbero essere degli effetti passivi fermiamoci un attimo e parliamo delle abilità divine più carte possono coesistere sullo spazio zero e quindi le carte sullo spazio zero si possono attivare in qualsiasi momento sia della fase 3 che della fase 4 da un qualsiasi giocatore attivo oppure non quando un giocatore attiva l'effetto di un'abilità divina questo viene risolto e poi la carta viene subito riportata allo spazio di partenza vediamo adesso la quarta fase fase d'attacco come la prima fase anche questa viene saltata durante il primo turno di entrambi i giocatori e invece nei turni successivi è possibile attaccare con tutte le proprie carte nel campo di battaglia per quanto riguarda gli attacchi vediamo adesso il loro funzionamento innanzitutto il giocatore attivo sceglie quale creatura effettua per primo l'attacco e poi l'attacco deve essere risolto completamente prima di passare all'attacco successivo come persaglio dell'attacco il giocatore può scegliere una qualsiasi creatura nel campo di battaglia di uno dei suoi avversari oppure può colpire direttamente un eser nemico invece la questione cambia se nel campo di battaglia del nostro avversario vi è una carta creatura col segnalino difensore allora siamo obbligati a colpire quella carta quando attacchiamo un eser nemico applichiamo semplicemente i danni indicati da quest'icona e per far vedere i danni subiti si abbassa di quello a montare il proprio dato da 20 mentre quando si attacca una creatura avversaria allora per prima cosa dobbiamo controllare il valore di iniziativa questo valore indica quanto rapidamente agisce la carta e la carta che al valore più alto applica i suoi danni per prima l'esaltato ha un totale di iniziativa 2 mentre il branco di necrofagi ha iniziativa 4 e quindi saranno loro i primi ad applicare i danni in caso di pareggio i danni vengono applicati contemporaneamente e vediamo adesso come si effettuano i danni alle creature nemiche innanzitutto nel gioco esistono tre tipologie di creature e la loro tipologia viene indicata dall'icona nell'angolo in alto a destra queste creature sono fisiche queste dell'ombra e queste corrotte è importante sapere la tipologia di creatura poiché il danno in base alla creatura in difesa viene applicato o totalmente o per metà un danno a metà viene sempre arrotondato per difetto e quindi essendo questa creatura attaccante fisica e infliggendo 4 danni fa sì che la creatura in difesa a sua volta fisica subisca tutti i danni inflitti la vita di una creatura viene indicata vicino alla sua tipologia e per quanto riguarda l'esaltato ha un totale di 4 di vita l'attacco uccide direttamente la carta e questa viene scartata ma in base se la carta è richiamata oppure risvegliata vi sono dei risvolti differenti se la carta uccisa è risvegliata allora questa viene subito messa nello spazio cimitero di quel giocatore così da indicare che è stata sconfitta se invece la carta uccisa è una richiamata questa viene girata sul lato risvegliato viene tolta dal suo spazio e poi viene incubata sotto lo spazio indicato sul lato risvegliato in sintesi questa carta in futuro potrà tornare in gioco nella sua versione potenziata se invece l'attacco non riesce a uccidere la creatura allora si posiziona subito un segnalino per indicare quante ferite gli sono già state inflitte alcuni effetti di gioco modificano in positivo in negativo la vita l'iniziativa e l'attacco di una creatura e se questa sopravvive all'attacco subito risponde con i suoi danni verso la carta che l'ha attaccata per una lista degli effetti e delle parole chiave basta far riferimento alle due carte aiuto e mi raccomando controllate sempre gli effetti delle carte conclusi gli eventuali attacchi che il giocatore può dichiarare ricordatevi che non siete obbligati a dichiarare un attacco si passa alla quinta e ultima fase del turno ovvero fase di pesca qui soltanto il giocatore attivo pesca una carta dal proprio mazzetto e la aggiunge alla sua mano di carte fatto ciò si conclude il turno e tocca al prossimo giocatore in senso orario visto che ci siamo parliamo adesso della prima fase ovvero fase di sviluppo qui soltanto il giocatore attivo sposta di una posizione tutte le proprie abilità divine e carte creatura che ha messo nei supporti il gioco continua in questo modo fino a quando uno dei due esir arriva a zero di vita e quando succede il suo avversario vince immediatamente la partita se entrambi gli esir vengono sconfitti nello stesso momento allora la partita termina con un pareggio arriviamo infine alle mie impressioni su feralis terra oscura innanzitutto mi sono interessato a questo progetto poiché essendo un vecchio giocatore di magic apprezzo sempre i giochi di carte dove bisogna costruire il proprio mazzo per poi competere contro altri giocatori infatti vi dico fin da subito che per il suo target l'ho trovato davvero un ottimo prodotto però peccato che ci siano alcune cose che dal mio punto di vista devono essere rifinite meglio facciamo così partiamo prima dalle cose che ho apprezzato meno e poi parliamo del resto in primis l'ostacolo più grande è il regolamento questo non è strutturato davvero al meglio genera parecchie incomprensioni e infatti sarebbe utile avere una versione aggiornata fortunatamente l'editore mi ha detto che lavoreranno a una versione più chiara del regolamento e poi ci sta anche il concetto della scalabilità la scatola riporta da 1 a 4 giocatori però è palese che un gioco 1 contro 1 e infatti si vede che la modalità 2 contro 2 non è la principale innanzitutto per poter giocare in 4 giocatori ci sono due possibili strade nella prima bisogna comprare una seconda copia del gioco invece con la seconda strada sappiate che nella scatola base è incluso un foglio di istruzioni che permette di giocare in quattro arrangiando alcuni componenti insomma molto apprezzato che comunque venga data la possibilità di giocarlo anche senza comprare due scatole però bisognerà scendere a qualche compromesso a parte questo il gioco 2 contro 2 non mi è entusiasmato infatti io ve lo consiglio in soli due giocatori dove lì il titolo risplende non soltanto grazie alla costruzione del proprio mazzo di carte per diventare sempre più competitivi ma anche a un gameplay davvero molto immediato e brutale partiamo col dire che il gioco cerca comunque di aiutare i nuovi giocatori e infatti vengono consigliati non solo dei mazzi pre costruiti ma si può effettuare anche il draft delle carte detto onestamente la cosa più bella è creare il proprio mazzetto così da gestire al meglio strategia e combo però per chi non si vuole impegnare tantissimo ci sono comunque delle soluzioni immediate sul fronte delle illustrazioni siamo davvero ad altissimi livelli da questo punto di vista un vero e proprio capolavoro e invece mi si è rispettato qualche sforzo in più sul lato grafico ad esempio qualche indicazione in più per rendere il gioco più accessibile e immediato però comunque il risultato finale è buono sul fronte del gameplay ho apprezzato davvero tantissimo il concetto di incubazione che in sostanza è un timer prima che la carta venga giocata e noi possiamo decidere se ottenere un effetto più debole che entra velocemente in campo e fra l'altro quando la carta viene uccisa torna più potente di nuovo nel contatore oppure se prendercela con un po più di calma e poi mettere in campo delle creature delle carte più potenti molto intrigante l'abbinamento possibile tra le carte delle varie fazioni e le abilità divine concesse dal laser dovremmo vedere quale tipologie includere massimo dei punti possibili insomma la parte della preparazione per me è riuscita e se non fosse per qualche problema di accessibilità comunque il gioco alla fine è semplice occhio è perché semplice da capire ma difficile da padroneggiare e per quanto riguarda l'interazione ovviamente ce n'è tantissima essendo un uno contro uno dove bisogna abbattere il nostro avversario distruggendo le creature e portando il personaggio a zero punti vita e per quanto riguarda l'ambientazione questa viene presentata dalle magnifiche illustrazioni e invece all'atto pratico è il classico gioco di carte competitivo non è un male perché comunque è perfettamente in linea con il target del prodotto e poi passando alla longevità secondo me questa è data dai possibili intrecci che è possibile creare con le quattro fazioni presenti nel gioco insieme ai 5 esir e le abilità divine essendo un gioco di carte competitivo punta tantissimo alla personalizzazione e all'ottimizzazione del proprio mazzo insieme a delle espansioni e un circuito torneistico che spero arriveranno in futuro sul fronte all'esperienza è il classico gioco dove la padronanza del titolo fa davvero tutto e infatti se si conoscono molto bene le carte si massacra il giocatore novizio e questo non ha possibilità di vittoria l'elemento della fortuna è il classico che possiamo trovare in questa tipologia di giochi di carte però si può andare a ridurre anche grazie alle abilità divine e a un attento utilizzo di catalizzatori e segnalini difensore apprezzate anche il fatto che questi segnalini sono limitati e bisogna decidere se puntare più alla difesa o velocizzare il tempo e poi non va sottovalutata anche la tipologia di creatura in base alla tipologia possiamo fare danni pieni oppure la metà e dobbiamo anche prendere in considerazione l'iniziativa delle carte chi combatte prima chi invece agisce dopo l'attacco in simultanea e insomma sul fronte della battaglia è un gioco che offre veramente tantissime possibilità sono contento che per quanto riguarda la durata il gioco sia davvero molto veloce alle prime partite si supera stento l'oretta di gioco poi con giocatori esperti si sta nei 30 massimo 40 minuti infatti i turni di gioco sono velocissimi e anche molto violenti e nell'arco di pochi round si arriva alla fine della partita insomma feralis è un buon gioco di carte competitivo stile magic con delle idee interessanti con degli spunti particolari che farà la felicità di tutti quei giocatori che cercano un titolo simile peccato solo per alcune sbavature e alcune rifiniture che dovevano esserci però per quello che mi riguarda si becca una bella medaglia di bronzo detto ciò siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate l'avete provato vi è piaciuto concordate con la mia recensione avete apprezzato il tutorial voglio sapere la vostra commentate qua sotto vi ricordo infine di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se apprezzate quello che sto facendo prendete in considerazione l'idea di abbonarvi al canale vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti